L'anno scorso il percorso si è fermato un po' amaramente ai play-off in un derby. Quest'anno dove conta di poter arrivare questa squadra? L'anno scorso noi eravamo le matricole della Serie B nazionale e quindi da questa premessa, avendo perso a gennaio due dei giocatori più forti del quintetto, nonostante questo siamo riusciti a entrare in play-off e abbiamo fatto anche le semifinali. È stato un risultato straordinario, impensabile in partenza, che però ha premiato un po' il lavoro dell'allenatore e di tutta la squadra. Quest'anno noi non ci poniamo degli obiettivi specifici, vogliamo far divertire le persone, vogliamo attirare intorno al nostro mondo più gente possibile, creare un clima. La partita non deve essere l'assistenza a uno spettacolo di dieci persone che corrono in mezzo al campo e presso un pallone, ma deve essere un modo di vivere insieme una realtà, di condividere delle esperienze. Infatti prepareremo dei punti di storia, stiamo studiando, perché vorremmo che il palazzetto diventasse un punto di riferimento per le famiglie, dove andare a trascorrere due ore la domenica pomeriggio insieme ai bambini e passare ore di divertimento in un contesto di amici e di persone cari. Più contento o più amareggiato che Campi non farà il derby con Teramo? Sotto un certo profilo ci dispiace, perché rimettere in moto un derby come ai vecchi tempi sarebbe stata una cosa veramente straordinaria, perché i derby riaccendono sempre gli entusiasmi, soprattutto là in quei posti dove sono molto sopiti. Però ce l'abbiamo tanti altri di derby, abbiamo il Giulianova, abbiamo l'Ortona, abbiamo il Pescara, perché gli scontri col Pescara furono poi mitici. Delle belle cose, perché quella gente che abbiamo visto al palazzetto di Campri, al pala Elettra, in quelle occasioni delle finale dei play-off, sono stato veramente uno spettacolo straordinario. Quest'anno questo spettacolo straordinario vogliamo si ripeta tutte le domeniche del nostro palazzetto.